Sono iniziate le ferie, oggi è il 16 di agosto e stiamo andando in montagna Lì vedete la marmotta piccola Fai vedere il telefono, dov'è il telefono di Mascia e Orso? Dove l'hai messo? Fammi vedere dov'è Dov'è il telefono di Mascia e Orso? Eccolo! E qua c'è la pelusina che sta già facendo le ninne Duda! Dove andiamo? Direzione Passo Valles Arriveremo per le due circa E ne siamo arrivati E vi devo troppo far vedere la nostra camera Che è stupenda Allora entrando abbiamo qua lo specchio Il mega divano Eh sì scusate il mega letto Con tutte le travi Tavolinetto Lì abbiamo il terrazzino L'armadio Il nano Televisore Vabbè E poi qua abbiamo il bagno Qua c'è la doccia Non so cosa avrete visto Però è bellissima Andiamo fuori in terrazza Permesso 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 Qua c'è la pelusa La pelusina E questa è la vista Ok le valigie le ho sistemate Però vi devo far vedere una cosa Che a me non è mai successa Ben che io purtroppo Non viaggio spessissimo Ma io non ho mai trovato Le salviette struccanti Che danno in dotazione nella camera Fantastico Con chi sto parlando Con chi sto parlando secondo te amore Con lo spirito dei brighelli amore sto parlando Con chi vuoi che parli Ascolta Bernardi Siamo in vacanza Quindi vedi di non rompere le palle Si può Che bello che sei con questa luce Che ti accarezza il volto Amore Ancarezza Chiado di napolentona Tu cosa stai facendo? Ale? Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Cucu 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 Cete Dove sei nell'aereo? In questi giorni Adesso andiamo a fare colazione Adesso andiamo a fare colazione Nano 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 Dove sei? dove sei andiamo dove dove vuoi andare dove vuoi andare a che scione uno due tre via via Siamo arrivati Oddio che bello il mio bimbo Cosa hai lì? No No Distrutta Siamo appena arrivati a casa sono meno un quarto le sette Ecco l'acqua sta bene, mi sono distrutta, mi devo lavare, preparare che dobbiamo uscire. Amore, mettiti su un paio di pantaloni. Non si vede il pisello. Dobbiamo prepararci di nuovo, uscire e andare via. Guarda Ale che ha il capello. Basta, amore. Dammi, che glielo faccio vedere le brighelle. Vedete che vi mostro Ale. Cosa mi fa già? Ale. Un pelo, cosa dovrei fare? Guarda, un attimo. Ecco, vi dicevo, dobbiamo prepararci e uscire un'altra volta per andare a cena. Vorrei solo andare a letto. Salutate con me la Cristina che le vuole là in fondo e noi del nostro... terrazzino. Vediamo, la vediamo. Estetico limpo, mi raccomando. Passate tutti a trovarla. E cosa, Noemi? Cosa? E' niente? E' meglio se vado a lavarmi. Che puzzo. Grazie.